Nella prima domenica di primavera allo stadio Ezio Ricci di Pratola Peligna, sfida salvezza tra Nerostellati e Amiternina. Sono i bambini della scuola calcio Nerostellata ad accompagnare l'ingresso in campo dei giocatori prima di esibirsi davanti al numeroso pubblico Peligno. Padroni di casa privi dello squalificato Iacobucci con mister Bernardi che schiera in prima linea Pendenza, Sosa e Onua Shi, mentre a centrocampo agiscono 40 Sisse e Verrocchi. Dall'altra parte il tecnico Angelone deve rinunciare agli squalificati Tuzzi e Di Alessandro. In avanti spazio a facecchia supportato da Alfonsi e Marchetti in fase d'attacco. Minuto di raccoglimento in seguito alla scomparsa del papà Di Contini, giovane calciatore Nerostellato. Sono i Peligni a provarci per primi sugli sviluppi di un calcio di punizione di Verrocchi e del Gizzi a incornare di testa e a trovare nient'altro che il corner. La Miternina prova a rispondere con Alfonsi ma la mira è delle peggiori. Ospiti decisamente più pericolosi al ventesimo quando l'estremo difensore pratolano Amo è provvidenziale su facecchia. Appena 40 secondi dopo sull'altro fronte è Onuashi a impegnare il portiere ospite Rossetti che poi alla mezz'ora è decisivo sul colpo di testa di Trozzo. Gara equilibrata ma al 35esimo il risultato cambia. Per la Miternina è Romano a trasformare in oro un corner dalla destra per l'1-0 di marca ospite. La reazione nerostellata non si fa attendere e al 39esimo sugli sviluppi di una punizione di Sosa essi se ad essere steso in area di rigore. L'arbitro di cola di Avezzano indica il dischetto prima di ammonire di Menico. Dagli 11 metri è pendenza a calciare il pallone ribattuto però dal palo alla sinistra di Rossetti. Durante l'intervallo il primo cambio del match con Pelino che subentra a Verrocchi nei nerostellati rimasti in inferiorità numerica al 53esimo quando 40 espulso Fantauzzi per Dimenico e il primo cambio della Miternina salvata dalla traversa sul calcio di punizione battuto da Delgizzi. Diverse sostituzioni nella seconda parte della ripresa con Pugliegli e Filippone subentrati a Giallonardo e Sisse nei Peligni mentre negli ospiti De Michele e Angelone sostituiscono Facecchia e Di Cicco. Nel finale di gara i nerostellati ci provano senza fortuna con pendenza prima del calcio di rigore concesso alla Miternina per fallo del portiere Amo che al novantesimo si riscatta ribattendo alla grande la conclusione di De Michele dal dischetto. La Miternina non concede più nulla e dopo oltre 5 minuti di recupero può alzare le braccia al cielo per una vittoria davvero importante anche perché riduce i punti di distacco della squadra di Angelone dalla quintultima posizione di classifica. Delusione invece in casa nerostellati. Nel dopogara voce all'allenatore Peligno Alberto Bernardi e all'autore del gol partita Luca Romano. Un peccato mortale perché oggi pur non avendo fatto una grandissima partita siamo andati più volte vicini al pareggio e l'avessimo pareggiata chissà come sarebbe andata però purtroppo come ho detto quando le giornate sono no c'è poco da fare. I ragazzi ci hanno provato fino all'ultimo in maniera anche un po' scomposta senza grande lucidità però insomma con un campo del genere era difficile anche provare a fare delle trame di gioco. In tanti penso ci davano per spacciati dopo la sconfitta di domenica scorsa però noi abbiamo parlato in settimana, abbiamo parlato prima della partita e noi non molliamo noi giocheremo da qui alla fine con il coltello fra i denti e ce la metteremo tutta. Speriamo e siamo sicuri che la società in questo ci sia molto vicina ancora di più di quello che sta facendo adesso però noi oggi abbiamo dato una risposta importante sul campo e non molliamo assolutamente.